23 aprile 2017 via francigena del sud si parte che cos'è questo massimo sembrerebbe un acquedotto di epoca romana vedete qua questo l'obus reticolatum qui c'è una voltina e poi continua anche giù in fondo potrebbe essere si chi si infila faccio una prova vai introduciti mi vedrete spuntare dall'altra parte ok io vado proprio un acquedotto romano è stato lungo molto e tira mazza se tira bravi sti romani parca miseria scusi buon uomo dove siamo ma da dove vedi l'acquedotto romano e qua siamo a velletri a velletri io vengo da castangandolfo a velletri sono arrivato ma come fa dalla vecchia strada si si c'è l'acquedotto lì vabbè proseguo vado si sempre dritto se raggiungo dove arrivo a velletri a velletri centro città resta una piramide vicino assolato nella via sagra genziana quanto dice mezz'ora e 45 pappardelle siamo quasi arrivati non ti preoccupare mi sente l'odore si chi fa a te preferiscono la pietra la durata quindi hai anche pezzi che potremmo andare con lì perché sono tante pili ma non voglio dare per il manù che vuoi mi devi tagliare perché non mi spiegare il battero che stai guarda che stai guarda che stai guarda